è ora di andare a dormire tieni gli occhi aperti non vogliamo che accada ancora quello che è successo ieri notte oh non ancora aiuti proteggimi aiuto cosa succede coni? c'è un mostro sotto al mio letto veramente? e dai coni è la solita oggi chi c'è di turno? io sono andata ieri oggi è il turno di missi ho tante cose da fare domani devo dormire lori vai tu ok vado io fantastico è il mio turno non chiuderò occhio stanotte la mia solita fortuna è sempre così l'unica cosa mostruosa qui è questo cupcake forse non è stato il mostro il mostro fa solo parte della tua immaginazione dormi grazie per la tua compagnia lori di nulla ora dormi coni non si può continuare così devi imparare a dormire da sola ma è il mostro rilassati devi solo contare le pecore e fare qualcosa che ti piace molto come cupcake e ridere molto farò dei cupcake ma se ci sono tanti mostri coni le fantasy sono qui loro faranno svanire la paura veramente? come? con l'elmetto magico wow un elmetto fantasy wow non è un elmetto come tanti è un oggetto magico che dà coraggio a chiunque lo indossa ehi coni ti sta benissimo sembri più coraggiosa giusto? sì sembri una vera fantasy ma non è vera magia giusto? no ma guarda com'è felice vediamo se riuscirò a dormire altrimenti ci penseranno i cuccioli oh no una pecora due pecore devo fare i cupcake cento pecore mille pecore l'elmetto non mi prenderete cos'è questa confusione? che disastro cosa stai facendo? con i consigli di susu e grazie a questo elmetto magico le ombre sono sparite dobbiamo dirti una cosa cani l'elmetto non ha poteri hai sconfitto le tue paure da sola veramente? da sola? ciò significa che sono molto coraggiosa e quando sei coraggiosa i mostri immaginari spariscono grazie per aver creduto in me mi sta venendo sonno i mostri aiuta i mostri ma i mostri non esistono l'elmetto magico ma non hai detto che non era magico? non importa danno a me ehi come pensi abbiano passato la notte? ehi non dovevate aiutarmi? non correte con terepegole e cose del genere sei sicura che siamo al sicuro qui? mi ha detto che i mostri non esistono sono Grazie a tutti